è il numero uno io ti dico che secondo me sta a sfruttare il progetto è il numero uno che c'è è il numero uno è il numero uno che c'è in Italia al mondo è il numero uno è tutto perché ci siete voi e poi anche perché con loro sono quattro amici da sempre da dopo ci siamo conosciuti e ci frequentiamo spesso quando è possibile per cui stasera che erano qui non potevo sfruttare l'occasione per salutarvi li dovevo salutarvi sono le panchine degli spogliatori le hanno portate a casa le fanno vivere grazie a tutti grazie a tutti